Ben ritrovati al quindicinale appuntamento con il notiziario dello Spicigelle del Veneto e voglio ricordarvi in apertura subito il numero telefonico per informazioni 340 83 23 190 e naturalmente il sito www.spi.veneto.it. Partiamo con le prime notizie che riguardano i congressi che hanno portato all'elezione dei 7 segretari provinciali indicando la rotta che l'organizzazione dovrà tenere per i prossimi 4 anni. L'appuntamento ora con il congresso regionale che si terrà a Mogliano Veneto il 20 e il 21 marzo prossimi. Conosceremo personalmente tutti i nuovi segretari martedì prossimo 18 marzo nel corso della puntata di TV7 con voi sere in onda dalle 21 alle 23. Ci sarà ospite naturalmente anche Rita Turati, segretario generale regionale uscente che si ricandida alla guida del sindacato. Parleremo di come il sindacato si troverà nell'immediato ad affrontare i problemi non solo degli anziani ma delle loro famiglie in merito a fisco, previdenza, assistenza sanitaria e sociale, politiche di inclusione e di coinvolgimento nel volontariato. Temi questi che sono entrati anche in una ricerca commissionata dallo SPI nazionale ed effettuata dall'Istituto Ipsos sulla percezione che i pensionati hanno della crisi. Un dato emerge chiaro, i pensionati non vedono la fine del tunnel della crisi. Il 45% degli intervistati ritiene che il peggio debba ancora venire, il 32% che siamo all'apice, solo il 17% ritiene che il peggio sia passato. Rispetto poi alla qualità della vita negli ultimi anni, il 74% dei pensionati sostiene che sia peggiorato o che comunque sia rimasto uguale in negativo, mentre solo il 24% ha visto dei miglioramenti. Alla domanda infine su cosa li preoccupi maggiormente, la risposta dell'88% degli intervistati è stata la mancanza di lavoro. Incredibile ma vero. E voltiamo pagina, parliamo invece delle questioni fiscali perché anche quest'anno l'Inps non invierà più a domicilio nessun documento relativo alla cosiddetta busta paga del pensionato. Il pensionato quindi dovrà arrangiarsi recuperando online le informazioni che lo riguardano. Ma anche quest'anno lo SPCGL del Veneto ha provveduto e quindi assisterà tutti i pensionati e naturalmente non solo i propri iscritti per stampare le buste paga, per leggere con attenzione naturalmente i dati riportati aiutando i pensionati a capire quali elementi contributivi vanno a comporre il proprio assegno. Per avere naturalmente maggiori informazioni sui servizi che vengono resi agli sportelli dello SPI ricordatevi di comporre il numero telefonico 340 83 23 190. Poi naturalmente potete anche scrivere o lasciare un sms, sarete ricontattati dal personale addetto allo sportello. Con questo è tutto, io vi rinnovo l'appuntamento, seguite su Facebook, sul web ma anche in televisione tutti gli appuntamenti e gli aggiornamenti che riguardano il mondo degli anziani e dei pensionati SPCGL del Veneto. Grazie.